L'affresco dei Promessi Sposi, realizzato in pictografia per San Paolo Patrimonio, è eseguito con terre naturali su grassello di calce. La preparazione avviene pezzo per pezzo, coprendo il supporto con il grassello e successivamente realizzando la pictografia a fresco, con colori a base di ossidi. Il ritocco manuale è stato eseguito con l'ausilio di una lente di ingrandimento, per ricreare ogni piccolo particolare. Il pizzo di Lucia è stato ricoperto con la biacca. Il bianco così acquisisce un effetto candido e puro. Tutti i rilievi sono realizzati in gesso a caldo. L'oro dal riflesso lucente e puro è 100% in foglia, realizzata in esclusiva per la bottega Tifernate. L'oro dal riflesso lucente e puro è 100% in foglia.